Good evening ladies and gentlemen e bentornati ancora una volta dopo le feste su NBA 2K16 Il regalo di Natale della 2K si chiama Defensive Players of the Year Ovvero un'altra collezione, quindi altre madonne e altri pacchetti Opriremo ovviamente i cofanetti Dovrebbero starcene tre, vediamo se ce la facciamo Sto vedendo qualcosa e sembra che pestino forte questi pacchetti C'è tanta tanta roba Innanzitutto è l'unica collezione per la partita con sei ametiste E una si chiama Michael Jordan, non so se ce l'avete presente Ma cominciamo e vediamo un po' se siamo già fortunati Vediamo un po' no Ok no Perfetto Ok partiamo già col botto, quindi abbiamo un oro Speriamo sia della collezione, incrociamo le dita No, Damon Lellard Andiamo avanti, vediamo il pacchetto numero 2 Comunque già che abbiamo trovato un oro è già qualcosa di positivo Quindi non mi lamento Siamo alla media del 100% per ora Ok Orge No, perfetto Ok C'è il 50% di probabilità Vediamo se un giocatore è questo No, sono quelli di scarpe Quindi speriamo un giocatore della collezione per favore No, lo di che Vabbè Pestano forte per gli altri questi pacchetti Io ancora Non ho trovato nulla Sì, vediamo Ti prego Per cortesia Andiamo avanti e tirami fuori Qualcosa che valga la pena Però effettivamente 3 ori su 3 è già una bella media Vediamo se questo è un giocatore della collezione E cazzo Michael Cooper Carino Carino Mi piace Mi piace Mi piace Mi piace 3 su 3 Per quanto riguarda gli ori Direi che la media è piuttosto buona Mi ricordano un po' i Pacchetti dunk the funk dell'anno scorso Che erano proprio Al bacio E cavolo Continua Attenzione Ragazzi 4 su 4 Piove oro oggi ragazzi Fai vedere un po' Kenter Vabbè Doppio Certo Chi se ne frega che di 4 ori 3 fossero delle doppie Proprio quello è È il meno Però ragazzi Già un giocatore della collezione L'abbiamo trovato Cooper Non credo giocherà mai Come sempre Però vediamo se magari Troviamo qualcosa di meglio Anche perché c'è in giro un Un Ronald Test Da 88 E quello meriterebbe tanto Ok Un altro oro 5 su 5 ragazzi Cioè Oggi proprio stiamo Stato Il banco sta saltando alla grande Vediamo cosa abbiamo qui Fai il riscardo Come sempre Questo Speriamo un altro Della collezione Magari di quelli grossi Sono quasi tutti oro Altro Michael Cooper Stato Ho già capito Qual è la carta Che vale tipo 3000 MP alle aste Così è intuizione Comunque Questo primo confanetto Per adesso Siamo al 50% Di giocatori oro Contando che abbiamo Aperto 5 panchetti Su 10 Direi che è una media Abbastanza disarmante E ovviamente Doveva morire qua Tutto l'ottimismo Vediamo il numero 6 Comunque La media rimane sempre alta Vediamo cosa troviamo qui invece Ok Finita la fortuna Mi sa Appena sentito Appena la fortuna Ha sentito Che la stavo chiamando Ha detto Ma si Perché non mandarlo A fare in culo E infatti Pacchetto numero 8 Vediamo cosa abbiamo qui Ok Cioè di nuovo un'ora Siamo contenti Due ori Tre ori Attenzione Se questo è un giocatore Parte l'incazzo forte Attenzione Ah Menomale Quindi Siamo a 6 su 8 Vediamo un po' Ha una scarpa Come minimo E no La scarpa è qui Sicuro Non contratto Vediamo che cosa abbiamo qui A questo punto È un giocatore per forza Ed è Big Ben Wallace Così si fa Interessante Questo potrebbe soppiantare Il Ben Wallace classico Che ho messo in panchina Nella squadra titolare Potrebbe essere Un acquisto interessante Anche perché Se il Ben Wallace normale Stoppa praticamente Qualunque cosa si muove Sotto canestro Questo praticamente Non usa neanche le mani Ok Un altro oro qui No No E porca miseria Vabbè È andata così Vediamo L'ultimo pacchetto Del Il primo cofanetto Piuttosto buono Comunque 6 su 9 Siamo a un Per adesso Un 70% Rimaniamo sul 60% Finale Cioè 6 su 6 ore su 10 È una bella cifra Ragazzi Io Non ho niente da dire Vediamo se anche il secondo Cofanetto Ci porta così tanta fortuna Più che altro Sono Gli giocatori sono assortiti Decisamente meglio Rispetto ai pacchetti Tipo il sesto uomo Dove c'erano Molti argentoni Infatti Sono stati allegramente Abbandonati da tutti Quei pacchetti Proprio per quello Ok Cominciamo anche il secondo Cofanetto con un altro oro Ed è Python Chandler Dai Figata Un altro Un altro DDA C'è un difensore dell'anno Ovviamente L'ho tradotto all'italiano Anche perché Direi Defensive player of the year Ci passava la nottata Finito il culo E continuiamo così Vediamo il numero 3 Una partenza Meno sprint Del cofanetto di prima Però Facciamocela Facciamocela bastare E appunto Adesso non troviamo più Niente Quando comincia così Sai come va a finire Sembra che è vicino alla metà Vediamo un po' se No Niente in versione di tendenza E continuiamo a pescare Roba di discutibile qualità Vediamo quest'altra invece Valotto Oro Ok finalmente Mi stavo preoccupando Bene Altro giocatore Ce l'abbiamo ed è Minchia Qualcuno Deveva iniziare a chiamare il giudice Per un'ordinanza restrittiva Verso Michael Cooper No Per sapere Perché mi preparo nel caso O la finiamo come Fetty Felton Del throwback Eh Non ho capito Eh che cazzo Qualcosa mi dice che Alle aste vale Tipo zero E non mi stupisco Vediamo Ok un altro oro Fanculo Di volta Non me ne accorgono neanche Che è un giocatore Anche perché L'unico pirla Con L'unico giocatore Con la foto In gioca e cravata Vedete voi Questo va un po' peggio Dell'altro Meno male che Il primo è stato Una mera illusione E adesso Sta arrivando un po' Lo schifo Lo schifo grosso Vediamo se Magari Sul finale Eh si Forse sul finale Qualcosa lo peschiamo Dai Perfetto Un altro oro Ed è Giochi no Dai Niente male Dai 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 Mi piace Dai Va già meglio Mi sento Mi sento meglio Stiamo anche per finirlo Questo Questo cofanetto Giusto Vediamo un attimo Sì Penultimo Spero nel Spero nel botto grosso Ma Mi sa che casco male Direi proprio di sì Davvero Non ci siamo Speriamo in una chiusa di livello Anche perché Dovremmo aprire I pacchetti singoli Adesso Non più cofanetti Perché Per poco Non ci bastano I vc Chiudiamo questo pacchetto Col botto Vediamo subito No Chiudiamo con un doppione Che per giunta Vale poco e niente Alle aste Apriamo i pacchetti singoli E vediamo che cosa Possiamo pescare Ne apriremo 5 o 6 Mi sa Vediamo un po' Vediamo Ok Cominciamo Non male Ma peggio Proprio Male 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 Vediamo Vediamo Meno 5 Ne è un po' Sta diventando sempre più complicato Ora Ok ci sono due ori Perfetto È un altro giocatore Vediamo se è della DDA No È la canata del Maccabi Vediamo se è un DDA Di nuovo Big Ben Wallace Non so perché Ma forse ci faccio qualche bel soldino Vediamo quest'altro Meno 4 pacchetti Vediamo se Vediamo se troviamo qualcosa Siamo partiti non bene Ma benissimo E ora stiamo andando Lentamente a spegnerci Per usare un eufemismo Eppure Avevo visto delle gran cose io Sul tubo Da A parte soprattutto Degli Vabbè Degli youtuber americani Lo sapete Anche perché qui Lo fanno veramente in pochi E tanto per cambiare Mi sa che Movgo Però non ce l'avevo E infatti Un piccolo passo per l'uomo Un grande passo per la collezione Di Kels Vediamo se Questi ultimi 3 pacchetti Possono darci La svegliata Se Come no Facciamo anche che ci credo Questi sono gli ultimi 3 Chiedo scusa Vediamo se Se peschiamo qualcosa Ma anche qui la vedo Non complicata Di più C'è un oro Buona sapersi Affanculo Vediamo di pescare Qualcosina Ok Argento 3 argenti 4 argenti Schifo Come al solito Questo dovrebbe essere L'ultimo L'ultimo pacchetto Con i VC Vediamo se Magari L'ha chiusa col botto Ma La vedo complicata E infatti Tanto per cambiare Niente Onestamente Onestamente Però io non mi arrendo E prendiamo neanche un paio Con gli MT Dai Vediamo se Vediamo se abbiamo un po' Più di fortuna Pescandoli con gli MT Quindi secondo me No Non cambia niente Ma proviamoci lo stesso Ma è fanculo però Ringrazio ogni Dio Su questa terra Che non vedete La mia faccia Quando faccio Questi spacchettamenti Perché È degna di È degna di nota Credetemi Vediamo un po' Questo invece Oro Intanto Che finisce male No Non finisce male Attenzione Ma Porca miseria Però dai Non puoi darmi un doppione Così impunemente Vediamo un po' Se Esca fuori qualcosa di bello Ma anche no Proprio Neanche morti Vediamo se Perverso degli ultimi due A meno che non peschiamo Qualche altra cosa Da mandare in quick sale Così magari Dobbiamo spacchettare Anche se così Sembra di andare in loop Ok Perfetto Ok Un altro oro Ed è Forse posso venderlo E farci qualcosa Ok A conti fatti Questo è l'ultimo pacchetto Che possiamo permetterci Quindi Speriamo veramente Nel botto finale Anche se Credo che Appunto Manco a farlo apposta E quindi Questo era il Il Defensive Players of the Year Abbiamo raccatato Abbiamo raccattato Big Ben Wallace 88 di overhaul Un bel lungo Devo dire Non è male Joachim Noah Sempre un lungo 84 Vabbè Etteson Channel 2012 Sempre lungo Sempre 84 Poi anche Michael Cooper 85 di overhaul Simpatico tiro Da 3 Devo dire Ma non Non aspettatevi sicuramente Di vederlo in campo L'ho già detto Detto questo Ci si vede Probabilmente Ne spacchetteremo ancora Perché Non sono male Sti pacchetti Alla fine Sono stato illuso Dal primo Dal primo giro Però Alla fine Il risultato finale È più che buono Quindi Noi ci vediamo Per il prossimo video Lo speriamo presto Ovviamente E niente Basta così Peace